Un incontro pubblico sul debito comunale si è tenuto questa mattina nel Palazzo del Consiglio promosso dall'Associazione Cittadinanza Attiva e ospitato dal consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Santoro. In occasione della manifestazione cittadina di sabato 14 contro i debiti storici del Comune, le forze di opposizione hanno illustrato le ragioni del loro dissenso ed espresso il loro punto di vista. L'amministrazione De Magistris sta indubbiamente cavalcando la protesta contro queste sanzioni applicate dalla Corte dei Conti rispetto al mancato indicazione del debito del CR8, della ricostruzione del terremoto come un qualcosa che sta subendo la città. In parte è vero ma dimentica l'amministrazione comunale attuale di raccontare fino in fondo che i debiti non sono solo quelli del CR8, c'è una mole debitoria che affligge il Comune di Napoli che è molto più grande di quella che può essere la partita del CR8, del debito del CR8, c'è una responsabilità che affonda le radici nel tempo e questa è la posizione mia come esponente di Fratelli d'Italia che si differenzia tra l'altro anche rispetto alle altre forze politiche di opposizione perché non è certo tutta colpa De Magistris occorre sicuramente un provvedimento straordinario da parte del governo per salvare la città di Napoli così come è stato fatto in tante altre città in Italia, al nord e al sud quando i comuni avevano difficoltà passando per Roma capitale, quando i comuni sono andati in difficoltà perché purtroppo con gestioni allegre come quelle che ci sono state negli anni precedenti è facile che si creino queste situazioni, accade poi che lo Stato deve intervenire. Siccome stiamo parlando della terza città d'Italia, di quella che è la capitale del mezzogiorno d'Italia, il governo nazionale ha il dovere di intervenire a maggior ragione rispetto a vicende come quella del CR8 dove c'è una responsabilità tra l'altro diretta dello Stato. Sono intervenuti fra gli altri la senatrice e consigliera del Partito Democratico Valeria Valente e il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa. PD e Lega saranno alla controiniziativa di Piazza Trieste e Trento, mentre Fratelli d'Italia avrà un suo presidio nella zona di Largo Berlinguer. La principale responsabilità di De Magistris è di aver in qualche modo pensato di poter risolvere un problema che era più grande di lui, che era più grande di qualsiasi amministrazione comunale perché quando si arriva a una mole debitoria che va a superare i 2 miliardi di euro tra debiti, disavanzi e quant'altro e crediti di dubbia o di difficile esigibilità, ovviamente stiamo parlando di un qualcosa che nessun comune mortale, nessun sindaco può venire qua con la bacchetta magica a pensare di poter risolvere. Noi oggi paghiamo le conseguenze di scelte sbagliate di tante amministrazioni che si sono susseguite nel tempo e che hanno in comune l'essere amministrazioni di sinistra, quindi per quanto mi riguarda c'è una perfetta continuità tra oggi De Magistris con chi l'ha preceduto, ecco perché come Fratelli d'Italia noi abbiamo inteso, al di là della condivisione rispetto alle denunce fatte dalle associazioni civiche, ma abbiamo deciso di scendere in piazza con un'iniziativa autonoma nostra come partito che è cosa diversa da quella che faranno altre forze politiche.